Buongiorno, io sono Flora e siamo qui davanti al Tribunale di Firenze per seguire questa prima udienza per questo increscioso evento che è capitato il 18 maggio del 2022. Vediamo un po' cosa succede. Noi difendiamo il nostro diritto, la nostra intimità anche perché siamo state spiate a nostra insaputa sotto le docce e nessuno di noi avrebbe mai immaginato questo e quindi insomma siamo particolarmente provate da questa cosa. Io penso di sì, penso di sì. Prendiamo il nostro diritto, la nostra intimità anche perché siamo state spiate a nostra insaputa sotto le dolce. Sì, è stato un po' di più. 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 Sì, è stato un po' di più.